L'organismo appena nasciuto vuole dare i primi sei consigli per evitare errori quando si scrive in siciliano. Vediamo quale sono. Consiglio numero uno. È sempre meglio scrivere la forma sana degli articoli determinativi. Se si volesse usare i kidda accursata, l'apostrofo sarà mettere un negativo la consonante. Mettirlo dopo è un errore grave. Consiglio numero due. A meno che non si volesse scrivere di proposito in dialetto locale, sanno evitare scrittura secondo le pronunze dialettale locale. Consiglio numero tre. Quando una parola comincia con b o g duci, non c'è bisogno di scriverla a doppia. Consiglio numero quattro. Alla stessa maniera non c'è bisogno di scrivere i doppi le consonanti iniziali quando, dovute a fenomeni fonetici, si pronunciano duppi. Consiglio numero cinque. In siciliano non ci sono parole che finiscino cuo o e non accentate. Consiglio numero sei. Seppur un certo locale a d si pronuncia r, quando sarà scrivere, tutti l'avessimo a scrivere d. Consiglio numero sei.